Buonasera a tutti. Vittoriano Viganò era nato il 14 dicembre 1919. Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario che la Scuola di Architettura e la Scuola del Design hanno organizzato insieme alla famiglia Viganò e all'archivio Vittoriano Viganò, Paolo Portoghesi aveva accolto il nostro invito a tenere una lezione il 16 dicembre. Il 16 dicembre avevamo deciso di chiudere la mostra, quindi a due giorni di distanza dalla data di nascita di Vittoriano Viganò. Paolo Portoghesi, poi la conferenza è stata rinviata per vari motivi e avevamo l'idea di ospitare Paolo Portoghesi nel secondo semestre per tenere questa conferenza ai nostri studenti, ma questo non è stato poi possibile per l'emergenza che ancora stiamo vivendo. Abbiamo poi concordato questa conferenza online con Paolo Portoghesi e per questo vorrei ringraziarlo nuovamente e molto per averla accettato di tenere in questa forma a distanza, contribuendo in modo significativo a mantenere vive le occasioni di confronto e approfondimento sui nostri temi che sono aperte agli studenti, agli studiosi e alla società civile. Quando l'abbiamo nuovamente invitato il professor Portoghesi mi ha scritto sarà come tornare in quell'aula del trifoglio in cui nel 68 raccontavo ai ragazzi di allora il grande messaggio etico dell'architettura moderna. Infatti Paolo Portoghesi è stato preside, giovane preside della facoltà di architettura dal 1968 al 1976. La sua presenza a Milano e la direzione della scuola, dopo quella di Carlo De Carli, si collocano in un periodo molto particolare in cui in parallelo alla contestazione studentesca la facoltà perseguiva in modo importante la strada del rinnovamento e della sperimentazione dell'insegnamento dell'architettura. La direzione di Paolo Portoghesi ha segnato una traccia che ha sorretto il nostro lavoro negli anni fino fino ad oggi. In quel contesto avviene, come lui poi ci racconterà, l'incontro con Vittoriano Viganò che era allora professore e ordinario nel Consiglio di Facoltà. La riflessione sull'opera di Vittoriano Viganò che ci offrirà oggi Paolo Portoghesi ha dunque sullo sfondo la nostra scuola e si chiude proprio sul progetto dell'ampliamento della facoltà in Via Amper, la scuola dove oggi siamo e questa opera magnifica di Vittoriano Viganò che ben concretizza la sua concezione del fare e insegnare architettura. Quindi grazie ancora a Paolo Portoghesi, ora Giampiero Bosoni ci introdurrà alla mostra Vivicento ha come architettura, una mostra che abbiamo rieditato in occasione del centenario e che la conferenza di Paolo Portoghesi appunto il 16 dicembre scorso doveva chiudere. Grazie. Sare amiche, cari amici, colleghi e colleghe, buonasera. Finalmente si torna a parlare e discutere e riflettere sull'opera di Vittoriano Viganò. Per noi tutti è un grande piacere introdurre e ascoltare la lezione magistrale che l'emerito professor Paolo Portoghesi, sollecitato dall'invito della famiglia Viganò e dalle scuole d'architettura e di design del nostro Politecnico, ha voluto dedicare all'opera di Vittoriano Viganò, autentico maestro dell'architettura e del design del 21 secolo. Come già stato ricordato dalla previ di Ilaria Valente, l'occasione del centenario della nascita di Viganò e questa lezione magistrale del professor Portoghesi che ha già prevista il 16 dicembre dell'anno scorso nell'ultimo giorno d'apertura della mostra Vivicento ha come architettura una retrospettiva. Ho avuto il piacere di curare insieme ad Andrea Gretti, certamente a tutt'oggi il più attento e appassionato studioso dell'opera di Vittoriano Viganò, allestita all'interno della galleria del progetto curata da Marco Belaghi e realizzata con il fondamentale apporto dell'archivio Vittoriano Viganò a Milano, curato da Vanessa e Viviana Viganò. Ma per alcuni inconvenienti la conferenza del professor Portoghesi non si potrebbe tenere e quindi venne inviata a data da destinarsi, prevista per i primi mesi di quest'anno. Con tutto quello che è successo e visto ancora l'incertezza dei tempi futuri per l'organizzazione di incontri pubblici, si è ritenuto importante poter mantenere questo appuntamento sia pure nella forma della conferenza online, in remoto a distanza e ringraziamo per la disponibilità del professor Portoghesi che ci auguriamo possa venire a trovarci presto anche di persone. Prendo solo due minuti per ricordare la mostra dell'anno scorso, facendo scopere anche alcune immagini realizzate dal collega e stimato fotografo Federico Brunetti e spiegare che per entrare nel periodo del centenario si decide di iniziare questo anno di studi e ricerche sull'opera di Viganò con una detrospettiva generale, fondata da una parte su un originale riallestimento appositamente concepito per valorizzare lo spazio molto ideato da Vittoriano di Viganò, della mostra A come architettura, da lui stesso ideata nel 1991 e curata mirabilmente nel taglio critico da Sergio Crofti, coadjuvato da Ernesto D'Alfonso e Franco Infusi, con la partecipazione all'allestimento di Achille Castiglioni, assentito da un giovanissimo Cino Giotti e di Bob Norda per la grafica. La mostra, che fu allestita negli nuovi spati della scuola, patio e sala mostra, rimasi in fili solo due settimane. E rispetto a questa filologica sezione storica della mostra storica a Biancaghe, una scelta di nuovi progetti, pressoché inediti, non presenti nella mostra storica, esposti con un repertorio di fotografie e documenti originari, spesso elaborati personalmente da Vittoriano di Ghanò. Oltre a tutto ciò che era già presente in mostra con un'accurata selezione dei capolavori consacrati dal grande architetto professor Ghanò, questa ulteriore selezione di progetti mostrava l'ampiezza e la popolità della ricerca del maestro milanese, il suo naturale talento insieme alla sua raffinata sensibilità per lo spazio e la materia. Lo hanno portato a sperimentare in maniera coraggiosa e stimolante con il precoce, autentico, finito ed avanguardia che lo ha sempre portato a distinto, temi senza tempo e oggi sempre attuali, quale la natura psicologica degli spazi, la relazione degli spazi abitati e delle strutture che li definiscono con il senso contemporaneo del paesaggio e della natura, la funzione sociale ed etica degli spazi pubblici, quali luoghi di incontro di una società civile e participe, il disegno degli oggetti funzionali come aggettivi in grado di far vibrare gli spazi interni dell'abitata, la consapevolezza dell'architettura come dimensione e dello spirito, prima che come immanenza fisica, in continua mutazione capace di accogliere il carattere e l'espressione del tempo che cambia. Queste e altre cose ancora da studiare e approfondire sull'opera di Janot intendiamo affrontare in un prossimo convegno, giornata di studi che si sta organizzando entro la fine dell'anno con la conclusione del centenario. Vediamo fermamente che l'opera, purtroppo in parte dimenticata di Vittoriano di Janot, debba essere ricollocata al centro della grande storia dell'architettura e del design del Novecento e che la sua ricerca sia oggi più che mai ponte di riflessioni per il progetto contemporaneo. Lascio quindi la parola al maestro Paolo Portoghese che dall'alto della storia nomata esperienza e cultura di storico dell'architettura, oltre che d'architetto, vuol dire che è un'intensa lettura dell'essenza progettuale dell'opera del maestro Vittoriano di Janot, peraltro il suo grande amico esodale a partire da quegli anni 60-70 gli intensi appassionati in cui Portoghese, come già stato ricordato, insegne credito da scuole d'architettura del maestro Politecnico. Con piacere ora lascio la parola a Paolo Portoghese. Cari amici, l'occasione di celebrare insieme a voi i cento anni dalla nascita di Vittoriano di Janot mi è particolarmente gradita non solo per il legame di sincera amicizia che ci ha unito, ma per l'ammirazione che ho sempre avuto, per la sua architettura e per il suo coraggio di mantenersi fedele a un ideale di architettura come impegno etico. Azzeramento, ricominciamento o rifondazione, divengono speranza e ragioni di vita. Questo è quello che lui dichiarava ai suoi allievi. Può sembrare strano che sia io a celebrarlo che ho sempre sostenuto quello che lui rifiutava, riportare la modernità nel grembo della storia, ma non è affatto strano a ben vedere che chi ha scelto la storia come disciplina e l'ascolto come poetica non solo accetti la differenza come un valore, ma sappia riconoscere la qualità estetica senza pregiudizi dove effettivamente si trova. Rispetto alla storia dell'architettura moderna italiana, le prime generazioni di architetti hanno forti differenze che permettono di individuarle nella loro identità, sia per quello che le unisce sia per quello che le divide. La prima in assoluto è quella dei maestri che hanno combattuto in prima persona la battaglia per la modernità, tutti nati, a parte Ponti e Michelucci, nei primi sei anni del novecento, da Terranea a Libera, da Albini a Rogers, da Moretti a Ridolfi. La seconda generazione alla quale appartiene Viganò è quella di Ettore Sozzas, di Giancarlo De Carlo, di Vico Magistretti, di Marco Zanuso, di Leonardo Rucci e di Bruno Zevi, nati tutti intorno al 1920. La terza infine alla quale appartengo è quella dei nati intorno al 1930, la generazione di Gabbetti, di Gregotti, di Aldorossi, di Carlo Aimonino e di Guido Canella. La mia generazione trovo negli architetti della prima generazione, Gardella, Ridolfi, Moretti, degli interlocutori e quasi dei compagni di strada, nella ricerca, dopo l'esperienza radicale delle avanguardie e del razionalismo, di una riappropriazione delle eredità storiche. Con la generazione di mezzo il colloquio fu ostacolato dalla loro convinzione che la tradizione del nuovo potesse e che la tradizione senza aggettivi e che il valore etico del linguaggio di Montenegro fosse un valore non negoziabile. Vittoriano, nonostante l'amitezza del suo carattere, è stato il più rigoroso e radicale dei suoi conetanei. Non ha accettato compromessi sul piano del linguaggio e la sua architettura attrae alimento fino all'ultimo proprio da questo rifiuto. Quando arrivai a Milano nel 67 per ricoprire la cattedra di storia dell'architettura, incuriosito della mia diversità, Vittoriano mi accolse fraternamente e mi fece da guida nell'esplorazione del clima sociale milanese di allora, così diverso da quello romano in cui mi ero formato. Sapevo bene tuttavia che proprio da Milano erano arrivati a Roma con Romini e Caravaggio per imprimere una cultura romana, alla cultura romana un nuovo corso rivoluzionario e conoscere Milano con Vittoriano come Virgilio fu un grande arricchimento e una chiave per capire meglio qualcosa anche della mia città. Ho anche l'occasione per un colloquio aperto a tutto campo tra diversi che cercavano di capirsi e soprattutto di capire il senso delle loro differenze, ma anche delle cose che amavano in comune. Era un momento difficile. I studenti della facoltà già da qualche anno erano insorti contro la cultura attribuendone l'esclusivo possesso a un'unica classe sociale, la purghessia, che odiavano pur facendone parte quasi tutti. Noi professori cercavamo di sottrarre la cultura a questa ipoteca e di individuare nella modernità l'alternativa al conformismo e alla soggessione al potere. Su questo punto troviamo faticosamente un accordo e sperimentammo una didattica basata sulla ricerca progettuale in un'ottica pluridisciplinare. Una volta rimanemmo fino a tardanotte nell'Aula del Consiglio, quella che vedete in questa fotografia, in cui Vittoriano è ben identificabile sulla sinistra, vicino a Guido Canella. Semi nascosto da Guido Canella c'è Carlo De Carli, che è stato preside prima di me ed è stato l'animatore della sperimentazione. In mezzo c'è Ludovico Barbiano di Belgioioso, grande testimone della nascita dell'architettura moderna in Italia. Subito sotto Piero Bottoni, un altro dei fondatori della modernità italiana, quindi diciamo questo consiglio di facoltà era un po' un armanacco di gota dell'architettura moderna. Purtroppo le persone che vedete in questa immagine io solo sono superstite e quindi mi tocca il ruolo di testimone. Una volta dicevo rimanemmo fino a tardanotte nell'Aulo del Consiglio, perché nella facoltà abbiamo invitato i baraccati di Via Tebaldi sottratti almeno per una notte alle passeggiate in Pullman, prescritte loro dalla polizia. Antonio Savona, uno dei membri del quartetto Cefra, convertito all'impegno rivoluzionario, scrisse allora la ballata di Via Tebaldi che, spero qualcuno di voi ricorderà e conoscerà. E fu così che i compagni e i studenti li accolsero tutti ad architettura. Curono tutti, con garbo scacciati, donne e bambini, studenti e docenti. Trattati con riguardo, con gas e manganelli, di Via Fatebene Fratelli. E viva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Aver fatto quel gesto di solidarietà costò a tutti noi, membri del Consiglio, ad eccezione del matematico Pasotti, una denuncia all'autorità giudiziaria e tre anni di sospensione dall'insegnamento, con la riduzione dello stipendio a un modesto assegno alimentare. Con Vittoriano, la notte dei baraccati, discutevamo sul valore di ripartire dalla tabula rasa, come suggeriva Husserl, e sui modi di interpretare l'epoca husserliana. Essendo riusciti a trovare un accordo, mi ricordo che tirai fuori un registratore ricco di cinque altoparlanti e misi a suonare una cassetta con il concerto per violino di Beethoven suonato da Jascha Heifetz. A un certo punto avevamo tutti e due le lacrime agli occhi, perché nella fiducia nell'arte, come un disvelarsi della verità, avevamo ritrovato un naturale e solido terreno comune. Non potendo, per ragioni di tempo, descrivere tutto il lavoro dell'architetto, mi limiterò a parlare da una parte dei capolavori degli anni Cinquanta, dall'altra invece farò parlare Vittoriano attraverso gli scritti, nei quali confessa le proprie predilezioni e ragiona anche lucidamente sul proprio destino. Concluderò parlando dell'edificio in cui si trova attualmente la facoltà d'architettura, che è certamente l'ultimo dei suoi capolavori. All'epoca del mio arrivo a Milano, nel 66, Vittoriano era noto soprattutto come l'architetto del Marchiondi, un indiscutibile capolavoro realizzato con una materia e cemento dotata di un forte richiamo tattile, che le Corbusier aveva adottato nella Maison Raoul e nella unità di abitazione di Marsiglia, oltre che nel meraviglioso convento della Turetta, dichiarandosi per un'architettura già lontana dagli astratti furori e dalle bianche cartilagine del purismo. Ma il principale pregio dell'opera era il fatto che nasceva non dalla scelta di una tendenza collaudata, ma da un'apertura a pieno campo verso quanto si stava realizzando nel mondo, ed esplorava anche gli insegnamenti che potevano sembrare venire da esperienze precedenti o lontane, come quella di Macintosh o quella sudamericana. L'amore per il cemento brutta era una passione comune che ci aiutava a dialogare senza diffidenze. Io stavo progettando la chiesa di Salerno, che deve la sua bellezza all'impronta delle assi di legno lavorate dai maestri d'ascia del porto, costruttori di navi. Nel caso del Marchiondi poi la qualità artistica, la forza espressiva, il rapporto dell'edificio con la sua destinazione pratica, non lasciava spazio e riserve. Quel linguaggio, fedele alla tradizione del nuovo ma nello stesso tempo innovativo ed eretico, era servito a dare valore a un programma edilizio di grande respiro e di grande attualità, allora come adesso, compresi subito che si trattava di un capolavoro, di un edificio capace di raccontare la sua ragione d'essere attraverso la sua forma, e cosa fondamentale è di parlarci in modo convincente di come l'architettura può contribuire a migliorare la vita dell'uomo. L'edificio è noto soprattutto per la fasciata sud, particolarmente fotogenica, ma il Marchiondi è davvero un piccolo mondo moderno, un tentativo riuscito di costruire per una comunità non solo la casa, ma una piccola città, un piccolo mondo. Ma allora che faccio, scrive Viganò, tendo a qualcosa, rifletto, elaboro, provo e riprovo, scopro, cresco facendo con il mondo, ma è sufficiente? E ti pare poco crescere con il mondo? Questo, Viganò si chiedeva. Crescere con il mondo, quindi partecipare con piena adesione alle tendenze, alle lotte, a quello che poteva trasformare il mondo, che solo in piccola parte purtroppo è riuscito a trasformare. L'architettura prende possesso della terra, misurandola ed abbracciandola con quelle grandi travi sospese e il canto e controcanto dei corpi di fabbrica di diversa altezza e spessore. Ciascuno degli edifici ha un suo carattere, che dimostra l'apertura culturale della giovane recluta, che ha saputo costruire davvero un'architettura della speranza. La speranza che un modo di progettare che segua e programma lo svolgersi della vita possa contribuire a cambiare il mondo, cambiare qualcosa nel modo di pensare e di comportarsi degli abitanti che vivono in quello spazio. La carica simbolica di valore sociale Trova, a mio parere, un possibile paragone solo con le scuole d'arte di Porro e Garatti costruite a Cuba alla fine degli anni Cinquanta, nel primo periodo del regime di Castro, nella speranza che il nuovo potere sposasse la causa del rinnovamento architettonico. Osservate la dimensione accogliente in scala umana degli spazi a terra in cui la natura si sta progressivamente riappropriando. Davvero fanno sperare che i ragazzi tornino a vivere, a giocare, per ridare un senso a quella che oggi rispecchia la cattiva coscienza? Conoscere i valori. Guardando questa architettura si capisce bene che è iniziato a insegnare agli abitanti la gioia della vita comunitaria. L'architettura è un lavoro intellettuale che si realizza attraverso la fatica dei tanti che operano nel cantiere, ma il messaggio che porta con sé può essere recepito solo nella partecipazione, che si realizza nel vivere la propria vita e in armonia con lo spazio in cui si svolge, realizzando l'utopia che essa ospita e propone. La forza del Marchiondi sta nel disegno di una struttura che non si accontenta del ruolo di ossatura, di gabbie a portante dell'edificio, come avviene ancora nella casa del fascio di Como di Terragne, il capolavoro del razionalismo anteguerra. Il protagonista nell'architettura di Guignot diventa lo spazio, non la logica distributiva, ma lo spazio come vuoto umanizzato attraverso il ritmo, il colore, le proporzioni, capace di travolgere ogni chiusura dell'involupro volume etterico. Il chiaroscuro vibrante, per certi aspetti, piranesiano e la funzione di membrana modulare degli infisti è un invito ad entrare, a scoprire un flusso spaziale che supera la distinzione tra interno ed esterno. I primi disegni fanno capire che quello che Guignot compie progettando è un tragitto che muove dalla tradizione comasca, indirizzandosi però verso nuovi orizzonti, lasciandosi dietro il mito della funzionalità materiale per attingere a una funzionalità psicologica e quindi alla piena espressività. È la funzione formativa che acquista nel progetto del Marchiondi l'occupazione centrale. Perché noi giovani che entreranno nella scuola devono attingere al coraggio di cambiare per costruire con le proprie mani il proprio futuro. Un'incredibile capacità di controllo dell'esito visivo permette a un architetto ancora giovane di creare spazi di respiro monumentale eloquenti ma controllatissimi. Quei travoni orizzontali che fendono lo spazio estendendosi oltre ogni limite prevedibile, quei pilastri che incontrano le travi mantenendo la loro identità verticale, quelle travi che si sporgono oltre l'appoggio e l'incastro con i pilastri non sono più gli elementi di una gabbia ortogonale, ma elementi che si proiettano nello spazio esaltando la propria autonomia, la propria libertà. Dove ha trovato Vittoriano il caraggio per costruire con tanto furor inventivo? Non certo dall'insegnamento di Nervi che si è sempre mantenuto nell'alveo di una controllata classicità e nemmeno Terragni, eppure ha servito per l'intreccio tra spazio e struttura aveva mai raggiunto, ne forse poteva, nel clima degli anni 30, un analogo slancio liberatorio. Nel 1953 Bruno Zevi aveva pubblicato a Milano un libro sulla poetica dell'architettura neoplastica, un libro che fece esplodere in Italia una moda alla quale era difficile sottrarsi. Di Ganosse ne servì, ma in un'ottica propria, elaborando una sintassi basata sulla logica formale, con suggestioni diverse e meno frigide di quelle del neoplasticismo olandese. A parte l'omaggio consapevole alle Corbusier, nel Marchiondi si può individuare il libero ricorso a suggestioni provenienti dalla storia, da Leonardo da Vinci, per esempio, chiamato in causa per la forma dello scalone, Macintosh, di cui abbiamo già visto alcune analogie con gli edifici di Glasgow, soprattutto per il giunto dinamico tra trave e pilastro, la membrana a maglia quadrata degli infissi e il gusto della trasparenza. Van Diusburg, l'eroe del racconto zeviano, aveva fatto scoppiare con le sue lezioni un conflitto intellettuale tra gli allievi del Bauhaus, con l'esito imprevedibile di un colpo di pistola. Dal neoplasticismo deriva nel Marchiondi il principio dello slittamento dei piani ortogonali, immancabile nei progetti di Van Diusburg. Ma la forza di Viganò sta nella corporeità che conferisce a questi piani e nel sapiente uso del controluce per ottenere effetti di chiaro scuro e persino di sfumato leonardesco. Una grande novità del Marchiondi sta anche nello studio psicologico che ne ha condizionato il modello distributivo. In realtà, all'epoca in cui venne costruito edifici del genere si chiamavano case di correzione. E già l'abbandono di questa denominazione chiarisce l'intenzione innovatrice sia dell'architetto che dei suoi committenti che si adoperarono in ogni modo per far sì che gli allievi della scuola si sentissero liberi di muoversi senza vincoli opprimenti. Lo stesso Vittoriano racconta che quando presero possesso del nuovo edificio i ragazzi lo fecero in modo gioioso come si partecipa a un'avventura, a una festa. Comentando l'ocala sull'espresso Bruno Zevi scelse come al solito un titolo geniale. I ragazzi non scappano. L'attenzione per il contenuto è evidente anche nel commento alla sua opera dello stesso Il Canò. Il non chiudere il perimetro ad esempio al fine di eliminare l'atmosfera carceraria fu un'intuizione del progettista al pari di quella di fare le camere intercomunicanti, gli spazi privati per gli istitutori e tant'altro. Trovare uno spazio logico in sostanza fu il mio obiettivo, uno spazio fruibile anzitutto dai ragazzi non legati a modelli prefigurati o comunque superati e disposti quindi ad esprimerlo nella sua autenticità. Ciò non toglie che il chiaroscuro drammatico prodotto dagli sbalzi abbia anche di piranesiano e si avvicina in qualche modo all'atmosfera delle incisioni delle carceri ma è anche vero che la continuità del chiaroscuro dall'interno all'esterno contrappone alla chiusura delle incisioni piranesiane un'apertura che ne rovescia il significato. Quello che era difficile prevedere allora era il comportamento nel tempo delle strutture di cemento a vista. Chiunque abbia usato quel materiale in quegli anni ha dovuto fare i conti poi con un difficilmente prevedibile processo di degrado dovuto soprattutto ai copriferri posti troppo vicino alle superfici esterne e soggetti assorbendo l'umidità delle piogge allo sviluppo della rucine che produce gonfiandosi il distacco di cospicue scaglie cementizie. Sessant'anni di mancata manutenzione e di abbandono hanno fatto il resto che paradossalmente però non ha diminuito il prestigio estetico di Marchiondi che oggi può essere visitato come si vanno a visitare purtroppo le rovine di Pampeio di Ancorvata in Cambogia appressando la lotta in corso tra vegetazione e architettura è una sorta di autocritica in atto che cancella delle parti e ne mette in rilievo delle altre. Se quindi Marchiondi ha dato a Viganò la grande soddisfazione di aver realizzato un capolavoro acclamato in Italia e nel mondo è stato anche nella seconda parte della sua vita motiva di sofferenza per lo stato di abbandono in cui l'edificio è stato lasciato e in cui ancora si trova per l'incuria e lo scarso coraggio di chi avrebbe dovuto promuoverne la conservazione e il riuso. Dieci anni fa un progetto era pronto per trasformare l'edificio in un'abitazione di studenti ma il finanziamento non arriva e la situazione attuale dell'edificio voi in Milanesi la conoscete molto bene è effettivamente un grande scandalo che un capolavoro dell'arte moderna uno dei pochissimi grandi capolavori dell'arte moderna che ci siano in Italia sia abbandonato a se stesso con l'unica prospettiva di diventare un ruggiero anche la buona occasione dell'Expo è passata senza risultato ed è forse opportuno che l'occasione del centenario sia sfruttato per chiedere finalmente giustizia tutti in coro per una delle icone del periodo aureo dell'architettura milanese il vincolo stabilito giustamente dalla sovrintendenza impedirà che il marchion divenga distrutto per motivi di speculazione edilizia ma il tempo passa le occupazioni si succedono e il degrado cresce vorrei che tutti gli architetti italiani si sentissero coinvolti in un salvataggio che sarebbe anche un doveroso gesto di solidarietà verso un uomo che ha dedicato la sua vita alla buona architettura il marchiondi è importante anche per i fraintendimenti creati da Rainer Benham introducendolo appena costruito in una categoria quella del brutalismo che solo il partner spiega la consistenza una corrente creata da un gruppo di giovani con classi inglesi nata in polemica con le testi di Pezner che aveva indicato nel suo celebre il libro una linea di sviluppo dell'architettura moderna che partiva William Morris James Stirling sempatizzando allora del neoblutalismo affermava politicamente e ironicamente siamo onesti William Morris era uno svedese riferendosi probabilmente all'empirismo della corrente scandinava i giovani iconoclasti erano guidati da Allison e Peter Smithson il secondo dei quali era soprannominato Brutus fin dall'adolescenza tanto da giustificare la fantasiosa etimologia proposta da Architectural Design Brut Alice M Rainer Benham cavalcò il brutalismo facendone un'arma contundente contro le deviazioni romantiche inaugurando una specie di moralismo giudiziario di cui fu vittima tra le prime anche Rogers che aveva pubblicato nel numero 215 di Casabella la bottega di Erasmo di Gabetti e Isola rispondendo a Banham Rogers lo accusò a sua volta di essere il custode dei frigoriferi a Banham fece molto comodo inserire nella categoria del neobrutalismo il marchiondi perché era un edificio veramente innovativo assai più delle opere degli Smithson e in esso la componente etica non era velleitaria ma autentica e chiaramente motivata dalla destinazione dell'edificio cosa ci sia di brutale in un edificio come il marchiondi pieno di raffinatezze espressive di attenzioni psicologiche di intenzionalità didattica non è mai stato chiaro oltretutto il cemento del marchiondi non punta tanto sulle superfici scabre delle cassaforme di legno quanto sulla superficie omogenea che si ottiene con le cassaforme metalliche il secondo capolavoro di Viganò è senza dubbio la villa di André Bloch la casa di un grande scultore che dirigeva in quegli anni la più popolare delle riviste di architettura è uscito il tour d'oggiudì ed aveva lui stesso fatti degli esperimenti di spazi scultore scavati come caverna la risposta di Viganò è invece un'esaltazione dei strumenti che l'architettura offre per ottenere risultati che possono avere anche un'analogia con le sculture di Bloch la scelta fatta da Bloch per Vittoriano era molto lusinghiera veniva da un conoscitore da un grande artista sensibile che avrebbe potuto scegliere qualunque altro architetto anche meno giovane e più famoso e sapeva però di rivolgersi a una persona di grande cultura adatta a stabilire un rapporto intenso tra architettura e paesaggio contrapponendo all'immagine del lago quella di una piattaforma flottante apparentemente sottratta alla forza di gravità se nel Marchiondi Viganò aveva saputo utilizzare l'eredità di Terrane e di Le Corbusier della Villa Bloch si apre a suggestioni che provengono dall'America Neutra Schindler ed anche Frank Lloyd Wright se gli spazi interni obbediscono a una griglia ortogonale ricordano Fallenwater le terrazze esterne si muovono liberamente con angoli ottuzi che rafforzano malgrado il contrasto una imprevedibile sintonia con il paesaggio da una parte tra zona di soggiorno e giardino c'è continuità dall'altro lo sbarzo delle terrazze crea un forte contrasto con il ripido pendio che scende verso il lago e dà l'impressione di qualcosa che si solleva liberandosi dalla forza di gravità mantiene però questo oggetto volante un legame con la terra per via della scaletta che arriva fino all'acqua della riva lacustre come un sottile ombelico piuttosto una proboscide che unisce gli spazi interni all'acqua del lago costringendo gli abitanti ad avventurarsi lungo un percorso vertiginoso Leonardo Ricci un coetaneo molto sensibile al rapporto architettura paesaggio definisce la casa e la scala che le ha dato il nome uno spazio metafisico contemplativo sembra che il lago sia entrato dentro la casa e la casa nel lago nonostante che siano congiunti appena da una lunga scalinata da via crucis che ti obbliga alla sosta e a una forma di preghiera questo diceva Leonardo Ricci interpretando un carattere poetico che questa scaletta ha reso più ricca di connotazioni con il passare del tempo attraverso questa affinità questa analogia con l'immagine naturale nella veduta dal lago questa scala sembra quasi un fulmine che attraversa e unisce architettura e natura il fascino della rovina ha ormai investito anche la scaletta mettendone in rievo il valore scultoreo nel costesso di un giardino ridotto a scenario del prevalere della natura sull'opera dell'uomo un altro aspetto che consente di avvicinare Riganò a Wright è quello di aver passato gran parte della propria vita in un capolavoro Taliesin per l'architetto americano e il piccolo appartamento in via Crivelli per Viganò che senso a mi chiederete paragonare la gigantesca residenza di Wright con un appartamento di un centinaio di metri quadri il senso è anche un appartamento urbano può raggiungere la qualità spaziale di un'opera senza tempo che continuerà ce lo auguriamo a comunicare per chi lo abiterà o lo visiterà in futuro il suo valore di simbolo eloquente di uno stile di vita sobrio e gentile che celebra la semplicità della vita quotidiana come può essere vissuta da un intellettuale che ama l'eleganza e l'austerità Vittoriano ci ha lasciato uno schisso che assume il suo lavoro di progressiva riorganizzazione di questo spazio definito è quello che avete visto poc'anzi è uno schisso che rivela il carattere dinamico della spazialità e questa riorganizzazione la prima mossa è l'individuazione di quello che Leon Battista Alberti definiva il cuore della casa un soggiorno con un grande cammino al centro e delle aree funzionali disposte a formare una specie di vortice le pareti che delimitano lo spazio hanno altezza diversa alcune arrivano al soffitto altre rimangono a mezz'altezza chi entra viene colpito da una serie di finestre e piani luminosi che emergono da un'atmosfera di ombra diffusa perché il pavimento soffitto e parte delle pareti sono dipinte in nero ne deriva una spazialità dinamica trasfigurata però dal carattere soffice caldo e riposante dell'ombra l'effetto imprevellibile di intimità è realizzato con mezzi di estrema sopplicità anzitutto la tricromia nero bianco rosso e poi la presenza dei libri di un mobile antico il preciso ruolo assegnato alla pittura a proposito di pittura Vittoriano considerava la sua casa così sporca e ipotetica così sericentesca e chiaroscurata così ruvida e così eccitata dal rosso e dal nero così offerta ma anche così ritratta così immersa nelle cose e nel tempo una descrizione poetica che a parte la sporcizia chiunque abbia frequentato la casa può sottoscrivere e che dimostra l'abilità di Vittoriano come critico di se stesso la qualifica di seicentesca per esempio incuriosisce ma si spiega subito pensando alla pittura e soprattutto a quella di un altro grande Lombardo Michelangelo da Caravaggio per il quale il rosso e il nero sono armi infallibili in effetti nella casa le fonti luminose ricevono dal nero buio di molte pareti una forza che consente alla vista la individuazione di bersagli scelti e ben studiati capolavoro effimero invece ormai fruibile solo attraverso la memoria e le superstiti fotografie la torre di tubolari innocenti pensata per i festeggiamenti natalisti del 1961 qui Vittoriano rende un appassionato omaggio a suo padre lo scultore Vico che aveva proposto la costruzione in pietra di una torre che dotasse finalmente la cattedrale milanese dell'agoniato campanile Vittoriano mi mostrò i disegni del concorso con affettuosa condiscendenza verso l'utopia eclettica del padre che aveva seguito già adolescente nella sua anacronistica battaglia la proposta fu lodata da Mussolini ma poi insabbiata per via del suo proteggiamento ondivago che appoggiava alternativamente modernità e tradizionalismo naturalmente nel costruire al posto del campanile una struttura provvisoria Viganò rifiuta ogni connotato stilistico del progetto paterno ne accetta però le regole geometriche e l'impulso verso l'alto la centralità della struttura e la doppia simmetria bilaterale disegnando una pianta che fa pensare a quella della rotonda palladiana è la materia costruttiva i tubolari innocenti che trasformano il volume in un fascio trasparente di linee verticali la trasparenza dosata con grande sensibilità consente di sviluppare in pieno il potenziale gotico dell'immagine il ricordo della passione che il padre aveva messo nel proporre la torre campanaria spinge Vittoriano a rivivere la stessa vicenda con un linguaggio diversissimo ma nonostante ciò fortemente evocativo come testimoniano i quattro torrescini che si disegnano come guglie sull'azzurro del cielo la verticalità invocata dallo spazio della piazza e dalla facciata del Duomo si materializza attraverso la leggerezza di una struttura che ha tutti i caratteri del non finito Michelangelo e in questo senso prefigura la problematicità caratteristica dei due ultimi decenni dell'attività progettuale dell'architetto prima di parlare dell'ultimo capolavoro l'edificio della facoltà di architettura va a dare spazio al pensiero di Vittoriano come ce l'ha comunicato attraverso i suoi scritti che sono pochi ma molto significativi e sono anche in gran parte legati alla sua attività didattica l'eredità che il maestro vuole lasciare ai suoi studenti non è quella delle certezze legate alla continuità del movimento moderno che pure hanno ispirato tutta la sua opera ma piuttosto quello che afferma la necessità del dubbio della sperimentazione della ricerca della diffidenza nei confronti dell'ideologia ricordo che per entrambi aveva un grande valore la poesia di Bertolt Brecht ma di ogni dubbio il più bello è quando coloro che sono senza fede senza forza levano il capo e alla forza degli oppressori non credono più tu che sei una guida non dimenticare che tale sei perché hai dubitato delle guide e dunque chi è guidato a chi è guidato permetti il dubbio per esporre il pensiero del maestro userò il metodo da lui prediletto di concentrarlo in una serie di parole chiave le parole in questo caso sono amore eteronomia intorno linguaggio rimozione ha come amore per Viganò il sentimentalismo è agli antipodi del suo modo di essere e di progettare l'essenziale è arrivare al silenzio al rigore ma quando ci si è arrivati ecco che talvolta c'è posto anche per un attimo di abbandono al fondo delle cose ha scritto in architettura di vita c'è sempre l'amore lei chi per amore teorizza idealizza volge in un abbraccio in sostanza rassicura ma insieme a parte astrae esclude chi per amore vive la vita presuppone in sostanza la vitalità e la forma della interlocuzione l'interlocuzione come evento e per contrasto e per gioco per compiacimento in mezzo al mondo che diviene una dichiarazione questa che esprime una grande capacità introspettiva e quel suo cogliere le cose per differenza contrapponendo stati d'animo ma forse in questa pagina si può leggere anche l'impianto di non essere stato meno rettilineo meno armato a difendere una fragilità che pure continuamente riappare ed è paradossalmente la sua forza Rossi e Viganò sono passati alla storia come opposti eppure c'è anche quel qualche punto di convergenza in cui intravedo un segno della comune origine lombarda quella di misurarsi con la vita in presa diretta Rossi parla della calda vita della quale l'architettura non deve condizionare la libertà Vittoriano parla di questo amore per la vita che si concreta nella interlocuzione che è poi la partecipazione entrambi rispondono negando l'affermazione di Lucas che giudica inattingibile una forma che serve la vita all'amore Vittoriano in omaggio al dubbio cede quando gli si offre la possibilità di realizzare il sogno di suo padre costruendo davanti al duomo abbiamo visto che in questo coraggio di navigare nell'effimero altre ha che da quelle che normalmente frequenta la simmetria la nostalgia la sonanza gotica il cielo squarciato qui il figlio cede alla voglia di dialogare con un padre che pensava ancora in termini di continuità con il passato e come eteronomia Viganò è stato testimone negli anni 60 di una cultura architettonica che affermava l'autonomia dell'architettura non l'autonomia dal tempo e dalla società ma l'autonomia del linguaggio che non deve essere contaminato da sapere estranei che possono solo deformarlo Viganò non era assolutamente d'accordo la sua posizione è descritta felicemente da Enzo Spautra illustre esponente della medicina del lavoro dall'architettura autonoma che vede nello spazio fisico la variabile indipendente all'architettura eteronoma che vede nello spazio fisico la variabile dipendente dallo spazio psittico origine e misura della fruibilità questo è il percorso di Viganò la psicologia è in effetti uno strumento essenziale al quale Viganò riconosce pianeristicamente l'importanza didattica tanto più gli strumenti di cui dispone una disciplina come la nostra si fanno incidenti sulla realtà scrive appunto Vittoriano tanto più deve essere chiaro e assunto quel fine superiore o etico che potremmo definire dello sviluppo e della libertà dell'individuo io cerco così anche nella psicologia nuovi termini per rinnovare o comunque dilatare il mio campo di idee e quindi per pensare e verificare diversamente l'architettura la psicologia è per me una di quelle discipline con cui l'architettura deve dialogare non è un generoso appello all'utilità del suo apporto sul tavolo di disegno ma la constatazione di una necessità a differenza di altre arte sostanzialmente astratte aggiunge perché no anziché materialmente utilitaria l'architettura risulta del tutto condizionata dagli eventi e dal contesto di cui è parte un fenomeno questo costituisce al tempo stesso una sua propria inibizione ma anche la sua dinamica specificità la sua inibizione se la natura del condizionamento è di basso livello se la domanda o la scommessa non sono di per sé stampelle forti la sua dinamica specificità se il condizionamento si chiama problematicità tra realtà contestuale e cultura del progetto un condizionamento che allo stesso tempo dolore e speranza dolore e speranza il dolore delle delusioni e la speranza di superarle chiunque si è impegnato nel nostro mestiere sa che spesso si passa dall'uno all'altro di questi sentimenti senza poterli allontanare il come interno il come intorno scusate intorno è una parola che Vittoriano usava con grande frequenza rispecchiava la sua ansia di totalità il suo istintivo rifiuto del limite e la volontà di darsi ragione delle forme e delle pieghe che il paesaggio anche quello urbano aveva assunto nel tempo nella sua eteronomia l'architettura è chiamata a proteggere e configurare l'ambiente e a stabilire un confronto tra l'identità del luogo e le trasformazioni programmate la sensibilità di Vicano per l'ambiente è già viva quando collabora con Pietro Porcinai al progetto del parco e il parco seppione è destinato a diventare una delle tragedie della sua vita e l'alternanza di divieti e permessi che gli hanno consentito di realizzare solo piccolissima parte un progetto ambizioso che avrebbe dato alla città un nuovo cuore un cuore verde con la vocazione ad espandersi e di attirare verso di sé la città ogni nuova occasione di intervento nel paesaggio è per Vicano un modo per riuscire metodologicamente la sua visione ambientalistica originale che diviene nella fase finale della sua attività l'aspetto più importante della sua partecipazione al dibattito disciplinare se nel Marchiondi il problema è quello di cancellare l'immagine stereotipata del prato di periferia sostituendo con il piccolo mondo moderno se ancora nella villa sul lago il problema è quello di sottrarre l'architettura al dominio del paesaggio e le opere successive la ricerca è quello di un equilibrio in scala territoriale che si sottraga ai limiti dell'area assegnata e coinvolga ogni possibile intorno esplorando la potenzialità di un rapporto il colorificio attiva torna l'enfasi della struttura del Marchiondi senza però la ricchezza del gioco prospettico mentre nel mollificio bresciano la fabbrica si adagia in una trincea lasciando al paesaggio un valore condizionante la delicatezza dei ritmi strutturali si orienta verso una ricerca di griglie spaziali traslucide i segni non finiti a volte volutamente fragili come in Cade la vigna nel cui l'incompiutezza realizza una compenetrazione tra ambiente e architettura negli ultimi interventi a Salò culmina la sua capacità di dare un nuovo volto all'ambiente urbano ora con il gesto netto del ponte di acciaio ora con le tessiture vibranti della pavimentazione stradale della piazza Vittoria sul lungo lago la poetica del dubbio dà i suoi frutti in questo atteggiamento che cerca di influenzare psicologicamente percezioni sensazioni e comportamenti e ci fa capire quanto ancora Vittoriano avrebbe potuto dare alla cultura architettonica italiana che adesso con troppo ritardo ha scoperto che il problema dell'ambiente del clima e dell'inquinamento è diventato centrale per la sopravvivenza dell'umanità L come linguaggio il linguaggio cui è riservato il compito dell'espressione ultima scrive Viganò tridimensionale quadridimensionale per essere compresi e fruiti non è cosa premeditata esso viene misteriosamente da un processo integrativo di ragioni intellettuali intenzionali e tecniche lontane e quotidiane e da condizioni vocazionali o fatali che sono proprie di ognuno è uno stato di tensione di ragione di immaginazione e di grazia che tende a farsi comunicazione e nasce un messaggio un segno che sono una verità o una teoria che non sono una verità o una teoria garantista ma semplicemente quello che ti riesce di fare per comunicare con te e con gli altri il nome di qualche cosa è il metodo potremmo dire di un anarchico che diffida delle ideologie totalizzanti ma vuole pur sempre comunicare il nome di qualcosa questo qualcosa non è meno concreto del fare e al fondo di ognuna delle sue opere c'è sempre una nobile intenzione c'è un tipo di fede che non esige di essere definita cristallizzata è la fede dello scettico viene in mente una riflessione di Cardarelli la speranza è nell'opera io sono un cinico a cui rimane questo al di là io sono un cinico che crede in quel che fa di questa religione del fare vittoriano era certamente un crudere un fedele M come misura la passione per il non finito e l'aspirazione anticlassica fanno di Viganò un nemico della simmetria bilaterale quella per spiegarci tipica del corpo umano e delle automobili viste di fronte ma in realtà nella sua architettura se diamo la simmetria al giusto significato matematico come operazione che muove e trasforma un determinato oggetto geometrico lasciandone invariato l'aspetto Viganò si rivela non un nemico ma un raffinato sperimentatore di simmetrie specialmente traslatorie e rotatorie la ripetizione poi ha un ruolo fondamentale nel suo linguaggio personale la speranza diceva Kierkegaard era un vestito nuovo fiammante tutto liscio e inamodato ma non le si è mai portato per cui non si sa come starà e come cascherà è un vestito smesso che per quanto bello non va più perché non entra più la ripetizione è un vestito indistruttibile che calza giusto e dolcemente senza stringere né ballare addosso come negare che la ripetizione in mano a Viganò diventi sostanza poetica lo diventa attraverso il gioco intrecciato di rinvii che discende dalla complessità di un linguaggio che ha bisogno per esprimersi di piani prospettici paralleli ed ortogonali rispetto all'osservatore diversificati per orientamento dimensione colore che contrapponendosi formano un sintagma che la ripetizione e la traslazione esalta e trasfigura quando mi è capitato di fare il piccolo scritto Viganò ho cercato di caricarlo il più possibile di generale quando è avvenuto il contrario ho cercato di recuperare il piccolo e questo è un discorso che faccio volentieri l'aver imparato a disegnare anche le cose piccole a capire lo spazio nell'entità più infinitesima è un'ottima arma quando si passa a una scelta più grande infatti il grande è una storia di tanti piccoli assemblati che sembrano tanti fuochi da cui può sprigionare un messaggio se devo dare un'indicazione per la lettura di ciò che ho fatto direi se guardi una cosa grande stai attenti a come le piccole vi stanno dentro se viceversa guardi una cosa piccola stai attenta come essa vive in un suo spazio più grande in un intorno più grande R come rimozione la bellezza dell'architettura scritto Viganò è che essa consente a suo proprio riguardo infinite definizioni dalla sfrazione via via fino alla sua propria negazione che è sempre latente ma che diviene addirittura puntuale quando è caduta di certezza per cui azzeramento ricominciamento rifondazione come suol dirsi divendono speranza o ragione di vita e qui l'architetto ci parla della sua visione filosofica c'è la tradizione del nuovo che implica una fedeltà ma la piena fiducia e la continuità di questa tradizione sarebbe una forzatura ecco allora che ricominciare da capo diventa speranza e ragione di vita Vittoriano era molto amico di Enzo Paci e conosceva suo tramite il pensiero di Husserl sapeva cosa significa l'epochè fenomenologica un'espressione tipica dello scetticismo greco che vuol dire sospensione del giudizio per Husserl è la messa in dubbio dei saperi precedenti e della realtà che c'è stata avanti la scelta di un atteggiamento non naturalistico c'è un vedere e un dire quotidiano e c'è una percezione più profonda la fenomenologia ci chiede di mettere tra parentesi l'atteggiamento naturalistico andando al di là di esso disoccultando il senso autentico della realtà per Fighianò dopo l'esordio fiducioso di Marchiondi il dubbio si affascia come un dovere nei confronti del patrimonio disciplinare acquisito delle teorie e delle invarianti anche quando si tratta di una teoria dell'amico Bruno Zevi alle quali contrappone la variabilità come necessità vitale essere come spazio la terza e la quarta dimensione quella del tempo sono alla base non solo delle convinzioni teoriche ma anche della istintiva sensibilità di Vittoriano la considerazione della spazialità come nucleo essenziale della creazione è punto di partenza per tutte e tre le prime generazioni degli architetti moderni e ciascuno ha dato di questa certezza una propria interpretazione vi era quindi affinità tra Vittoriano e me proprio la passione per la psicologia e la ricerca di una spazialità dinamica come invito a entrare a muoversi da un punto all'altro per espedire la sua realtà che è visibile ma si snocciola nel tempo e si prolunga nell'invisibile se il mio metodo era la ricerca di uno spazio continuo modellabile attraverso la curvatura delle superfici come fosse cera nelle mani di uno scultore per Vittoriano era un'idea sempre collagabile con la scultura ma busata sulla molteplicità e discontinuità dei piatti sulla separazione tra ciò che sale e verticale ti viene incontro che ciò che si distende in orizzontale se la sua configurazione progettuale privilegia l'interno come punto di partenza subito dopo definisce l'esterno come successione prospettica in profondità di superfici di ombre di vibrazioni luminose insomma scrive possiamo usare lo spazio ma solo nella misura in cui riusciamo a integrarlo o a filtrarlo col tempo in altre parole spazio e tempo costituiscono gli ingredienti essenziali della nuova materia che dobbiamo trattare architettonicamente e ancora spazio in quanto tale è non sommatorie di superficie è una garanzia di realtà quella dell'essere nello spazio e nel tempo nell'ageramento continuo e nella risposta continua nell'infinito e nel non finito altrove così si esprime la scelta che faccio accantona per così dire il materiale forma come modulo linguistico proprio dell'approccio classico contraponendogli l'altro ingrediente reale spazio e ciò per un che mi pare chiaro la proprietà che gli è proprio di non concludersi o rappresentarsi più di un altro è qualcosa che meglio può corrispondere a quel rapporto vissuto architettura e a quell'architettura come eteronomia fermando per così dire l'architettura a uno stadio aperto a un non finito siamo di fronte a una consapevole identificazione di quanto è noi di a priori espressione di un individuale mistero quelle preferenze istintive quelle tensioni che si possono rimuovere solo con una sorta di consapevole tradimento e qui questa confezione è veramente importante per capire la coerenza di Viganò Vittoriano parla con una sottile ironia di un suo destino al quale non vuole sottrarsi io forse sono portato per temperamento a un vissuto più sperimentale più movimentato che persuasivo mi trovo più a mio agio nel non finito cartella è un maestro del finito quando si va verso il finito come lui il rosa e la testa di Moro sono quasi un destino se vuoi sapere perché io faccio il rosso e il nero rispondo che il tuo rosa è il mio nero e il mio nero è il tuo marrone in altri termini il mio destino l'ultimo cavolavoro con cui concluderemo questa memoria è la facoltà di architettura del Politecnico in questo edificio in cui mi sento responsabile anch'io perché quando il consiglio di facoltà doveva scegliere l'architetto da segnalare al rettore per completare la facoltà che l'insieme disordinato di corpi di fabbrica che costitua allora la facoltà di architettura fu tra i più decisi a puntare su Viganò che come più degli altri aveva rissuto intensamente le contraddizioni di una scuola in fiamme che pure aveva trovato nella sperimentazione un momento di difficile convergenza due volte mi è incapotato di fermare una lettera di incarico recitando la parte del committente anziché quella dell'architetto e in entrambe sono stato assai fortunato la prima è stata quella di questo edificio la seconda quella del teatro del mondo di Aldo Rossi ero sicuro che Vittoriano avrebbe assolto il suo compito con l'impegno e il rigore che aveva dimostrato in tante occasioni e soprattutto che sarebbe stato capace progettando di dar conto con l'architettura di quella storia difficile che avevamo vissuto insieme sapevo che avrebbe creato un nuovo Marchiondi un edificio esemplare problematico aperto pensato per l'incontro e per la ricerca uno specchio di quella sperimentazione in principio autorizzata dal ministero e poi sconfessata dopo l'episodio dei baraccati portandoci in pulmi in pulmano nella sede della questura di fate bene fratelli denunciandoci anche all'autorità giudiziaria che ci ha assolto poi tutti per merito del giudice Alessandrino Alessandrini che fu poi ucciso dalle brigate rosse non escludo che anche Vittoriano cercasse di fare qualcosa di simile al Marchiondi ma non fu così proprio perché l'ammarezza dell'esperimentazione trancata non consentiva lo stesso ottimismo gli anni settanta erano ben diversi dagli anni cinquanta quando l'Italia si era risollevata dal disastro della guerra una energia sorprendente e con ideali fortemente condivissimi questo edificio in realtà è rispetto al Marchiondi come un figlio che ha sperimentato il dolore e la delusione molti elementi si si somigliano ma sono adoperati in modo diverso e l'effetto complessivo è assai più drammatico certo anche il Marchiondi è un edificio drammatico uno spazio coinvolgente ma la facoltà è in più una dimensione tragica e in questo esprime l'ottimismo della volontà ma anche la difficoltà di credere a un lieto fine in una soluzione totalizzante dall'esterno il volume racchiuso dal piano specchiante degli infissi a maglia quadrata che somiglia a quello di una grande fabbrica industriale è preceduto da un sistema di gabbie quadrate sospese dall'alto a un pilastro centrale un meccanismo paradossale che servono ad amplificare il ruolo delle scale del ballatoio e della gigantesca A che scomposta in frammenti annuncia da lontano non tanto la destinazione quanto la sua problematicità a proposito qualcuno avvicinato Viganò alla moda del decostruttivismo niente di più lontano dalla sua ispirazione di questa parentesi intellettualistica che esibisce il lavoro dell'architetto con compiacimento nella sua autonomia disciplinare Viganò si serve della scomposizione come terragni come albini per ottenere una spazialità di manica confrontata con il tempo non vuole invece coinvolgere l'osservatore in enigmi inaccessibili all'interno il cuore dell'edificio è costituito da una corta richiusa che attraverso una scala chiocciola di collegamento di cemento collega a diversi livelli il complesso meccanismo distributivo e la pervasiva presenza dell'ombra di cui sono intrise le materie costruttive realizza dal punto di vista psicologico la sensazione del labirinto in questo caso potrebbe alludere al labirinto della ricerca non so se l'autore abbia pensato a questa metafora che si presta però bene a simbolizzare le difficoltà di una disciplina minacciata oggi da una serie di rischi drammatici che quando è stato progettato l'edificio erano ancora lontani ma in certa misura prevedibili da una parte il primato sempre più schiacciante dell'economia che lascia spazio quasi solo al valore pubblicitario dell'architettura dall'altro la tendenza dell'intelligenza artificiale a sostituire l'uomo salvando delle discipline tradizionali unicamente l'ingegneria e poi la sortità del potere la mancanza di ideali il crescere tra molti dei giovani di un'ignoranza che li separa dallo scorrere del tempo e li racchiude nella gabbia di un presente unidimensionale senza memoria e senso futuro parlo di laborito nel senso metaforico della ricerca e mi riferisco a quello che dice Socrate nel dialogo platonico di Eutidemo caduti allora come in un labirinto mentre credevamo di essere ormai alla fine risultò che eravamo ritornati come all'inizio della ricerca e avevamo bisogno della stessa cosa che ci occorreva quando avevamo cominciato a cercare questo contenuto etrogico non è però il solo che può essere attribuito all'edificio nel cercare di comprenderlo è caratteristica dell'arte avere quella intrinseca ambiguità che Elliot Thelman ha individuato in sette tipi diversi di ambiguità questo stesso edificio può essere letto indubbiamente anche come un inno alla speranza e alla libertà in cui le ombre dominanti esaltano il ruolo salvifico e la luce e la spazialità dinamica rispecchia la forza di una comunità impegnata verso la nuova frontiera di una cultura capace di affrontare e risolvere i problemi di fronte ai quali si trova oggi l'umanità e che l'architettura può contribuire a risolvere come la giustizia sociale e il salvataggio dell'ambiente in cui viviamo la storia ci insegna che il significato profondo di un edificio può rivelarsi nel tempo e cambiare in funzione di ciò che sta avvenendo e di ciò che avverrà al tono eroico e fiducioso del Marchiondi è giusto sia subentrato il trono della sofferta speranza una sofferta speranza che Vittoriano espresse in modo perfetto in questa idea per il monumento della resistenza in cui stranamente si serve di uno strumento di cui non si era mai servito in precedenza la curva forse proprio come simbolo della rimpartata purtroppo questo edificio non è stato realizzato ma il suo schizzo è così forte così diciamo incisivo da rimanere nella memoria e di associarsi alla speranza che l'architettura possa tornare ad essere un valido strumento per migliorare la vita degli uomini grazie della scuola grazie grazie mille a lei professore per questo ricco e per ricordo a tutto tondo dell'architetto Viganò sono arrivate molte domande anche queste molto molto corpose segno che proprio è stata un'interessantissima lezione e quindi se lei è pronta non è troppo stanco vorrei cominciare a porgerle qualcuna interloquire eccoci allora intanto le invio un caro saluto da parte delle figlie di Vittoriano Viganò che appunto Vanessa e Viviana che hanno seguito con attenzione la sua lezione questa sera se riattiva poi il video sì ho riattivato perfetto eccoci qui allora intanto le pongo una prima domanda da parte di Anna che ci chiede Viganò intendeva lo stile no come cifra ma bensì come responsabilità e riconoscibilità nel territorio formale come intendeva Viganò secondo lei il rapporto fra politica e qualità nel saper fare l'architetto con responsabilità e in che modo il suo messaggio si proietta nell'attualità nel futuro diciamo che è una domanda abbastanza complessa diciamo Viganò ha sempre diffidato della politica d'altra parte diciamo se prescindiamo dal periodo dell'adolescenza che è stata testimone di un momento storico così significativo la vita di Viganò si è svolta poi all'interno diciamo dell'Italia del dopoguerra e dell'Italia degli anni 70-80 in cui ci sono stati molti episodi ma fondamentalmente tranne forse che nel caso del piano Fanfani l'intervento della politica nell'architettura è stato un divago poco impegnato in fondo si accusava diciamo il potere italiano di aver subito una specie di complesso nei confronti del regime precedente siccome il fascismo aveva privilegiato l'architettura come mezzo di espressione e soprattutto come modo per essere ricordati nella storia viceversa nel periodo che abbiamo vissuto del dopoguerra l'architettura era vista come un strumento secondario da non accreditare basta pensare che il centro dei servizi politici della città è stato realizzato nell'Eur che era praticamente un frutto della cultura fascista in posizione musoliniana questo fa capire come appunto tutta la generazione a cui il piano apparteneva ha subito questa emarginazione dell'architettura rispetto allo Stato e all'amministrazione del potere per quanto riguarda lo stile era una parola che allora si usava con molta diffidenza perché diciamo il compito che l'architettura moderna si era data era proprio quello di chiudere con gli stili e fare un'architettura che non avesse nulla a che fare con queste regole che caratterizzavano lo sviluppo dei mestichi poi naturalmente a distanza di diversi decenni possiamo dire che esiste anche uno stile modernista uno stile postmoderno ci sono tanti però il concetto di stile in effetti era in pieno conflitto con quel tipo di architettura che Viganò ha pensato naturalmente lui aveva un suo stile personale dimostrato chiaramente dalla predilezione per i colori rosso e nero per esempio tuttavia è diciamo più che altro una scelta personale che ovviamente non voleva imporre non voleva creare una corrente quindi diciamo Enrico Viganò è stato un architetto coerente sposando l'individualismo in una forma però aperta agli ideali della società quindi è un rappresentante dell'idealismo e del personalismo se vogliamo però con una grandissima sensibilità verso la società e questo lo ha dimostrato anche appunto partecipando in pieno a quello che è stata la realtà della facoltà di architettura alla fine degli anni 60 non si è mai allontanato non si è mai sentito un distacco come altri hanno fatto invece è stato un protagonista della ricerca condivisa dagli studenti grazie 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 mille e parlando del Marchiondi lei ha toccato proprio un tasto delicato un nervo scoperto per Milano e non solo quindi tanti ci hanno scritto appunto non prova tristezza nel vedere l'istituto Marchiondi in totale stato di abbandono e addirittura è arrivato anche un appello da parte di Sara Banti chiede professore si faccia lei promotore del salvataggio del Marchiondi non rassegniamoci a vedere crollare un'opera che ha la potenza di un Pompidou con la sua guida autorevole e il sostegno del Politecnico si potrebbero esplorare formule che coinvolgono uno o più imprenditori milanesi ce ne sono di sensibili e intelligenti che hanno già dato ottime prove di attenzione all'architettura far rivivere questo edificio straordinario sarebbe un segnale forte di resistenza milanese oltre che un dovuto maggio a Viganò vuole aggiungere qualcosa? sì diciamo non nascondo che quando mi è stata chiesta di fare questa conferenza ho subito pensato che si doveva pentare soprattutto sul salvataggio di questa straordinaria opera d'arte che ha un suo fascino romantico di rovina ma che è veramente nostra responsabilità abbandonare a se stesso l'autodistruzione diciamo è quasi incomprensibile che una città così ricca di iniziative come Milano che ha saputo rinnovarsi io direi anche troppo in tempi recenti abbia dimenticato questa testimonianza del periodo aureo dell'architettura milanese perché non dimentichiamo che in quel momento l'architettura milanese era guardata con grande interesse in tutto il mondo mentre oggi si costruiscono a Milano soprattutto edifici di architetti che vengono da lontano che esprimono una loro visione personale sicuramente rispettabile ma che ovviamente non hanno quella ricchezza che viene dall'architettura che è nata nel luogo dove l'architetto che l'ha fatta ha sempre vissuto e che quindi ha delle radici nella cultura locale ecco noi sappiamo benissimo l'importanza di tutto ciò che è mondiale nel nostro mondo abbiamo seguito la mondializzazione anche se in alcuni aspetti si è presentato come un fattore negativo ma non dobbiamo negare invece il locale il locale e l'universale devono in qualche modo collegarsi tra loro e io credo che Milano deve ricordare questa stagione meravigliosa in cui dagli anni 30 agli anni 50 60 c'è stata veramente un importanza centrale della ricerca della cultura milanese ci sono tanti maestri da ricordare Viganò è uno di quelli e diciamo quando si pensa a Viganò però non ci può non essere un senso di rimpianto nei confronti del fatto che la più bella delle sue opere è abbandonata è abbandonata all'autodistruzione ed è anche un'opera molto significativa aperta verso un futuro che è ancora in gran parte da realizzare se pensate che in fondo era una casa di correzione quindi una specie di carcere ecco un carcere interpretato come ha saputo fare Viganò come invece uno strumento di liberazione è veramente qualcosa che arricchisce attraverso la cultura architettonica la cultura in senso più ampio possibile quindi io mi auguro effettivamente che possa nascere io per mio conto senz'altro dico che è una delle cose più importanti che Milano può fare in questo momento ha fatto tanti sforzi è diventata una capitale ipermoderna non deve dimenticare il suo passato che è alla base anche della sua fioritura attuale passato che secondo me si condensa in alcune opere fondamentali che vanno dalla Torre Velasca che però è ancora lì perfettamente come se fosse costruita ieri e Viganò invece è diventata una ruina il collegio Marchiunghi ecco io quindi penso che veramente uno sforzo si debba fare era stato fatto dieci anni fa era stato redatto un progetto dall'architetto Fortis io ricordo che era un allievo di Aldorossi un progetto interessante che pensava di trasformarlo in residenza degli studenti per creare un vero e proprio campus io penso che la destinazione universitaria sia una destinazione interessante certamente è un luogo fatto per vivere oltre che per diciamo imparare attraverso delle strutture didattiche un luogo fatto per vivere quindi cui bisogna riportare dentro la vita e secondo me quella scioltezza di quella ricchezza di spazi influenti che c'è all'interno potrebbe essere proprio un richiamo verso una interpretazione dei valori architettonici che è attuale nella sostanza anche se è lontana da quelle che sono le ricerche caratteristiche di questi anni speriamo veramente che è un fatto veramente occasionale ma che questi cento anni di vegano servano a qualcosa per salvare il marchionismo senta invece poi c'è Gregorio che ci chiede qual era il peso dell'ideologia marxista presso i suoi colleghi di allora al Politecnico il peso dell'antifascismo della critica al capitalismo le sue disuguaglianze e quale crede che sarà il futuro dell'architettura di fronte alla crescente critica nel mondo dinanzi ai fallimenti sociali economici ed ecologici del capitalismo più espliciti che mai in questo periodo pandemico diciamo che la facoltà d'architettura ha vissuto questo momento particolarmente intenso delle lotte studentesche che erano diciamo motivate dal desiderio dei giovani di cambiare il mondo e di renderlo più giusto più equilibrato meno caratterizzato dalle disuguaglianze ora noi sappiamo che da allora ad oggi le disuguaglianze sono ancora peggiorate diciamo i ricchi sono sempre meno i poveri sono sempre di più e diciamo si è allargata moltissimo diciamo la povertà interessando alcuna parte della piccola borghesia questo è sicuramente un fenomeno che fa capire che il sistema capitalista lasciato a se stesso non riesce a risolvere i suoi grandi problemi è caratterizzato da queste continue crisi oggi abbiamo avuto almeno tre crisi diciamo tragiche che hanno avuto delle conseguenze terribili diciamo tutto si collega anche la questione del coronavirus che ha colpito soprattutto le regioni in cui c'è un inquinamento maggiore ci fa capire che la logica con cui si sviluppa il sistema è una logica inumana e quindi bisogna avere il coraggio di combattere certamente il socialismo ha avuto come dire un fallimento nel momento in cui si è trasformato in uno stato ma il fatto di considerare la battaglia ormai vinta dal capitalismo fino alla fine della storia è una rendersi a una realtà che non soddisfa nessuno anche la terra si lamenta il Papa parla del grido della terra e del grido dei poveri io credo che questo grido lo sentono tutti insomma ed è un grido potentissimo che ci spinge a riprendere il discorso di quel cambiare il mondo che è stato il discorso anche del marxismo il marxismo era un'interpretazione della storia che voleva accelerare quei processi che considerava positivi i processi rivoluzionari ecco noi oggi sappiamo che le rivoluzioni magari hanno un costo di vita umana troppo alto che forse bisogna cercare dei sistemi diversi si parla per esempio della partecipazione cioè dei gruppi dal basso che si rivolgono al potere costituito e riescono a trasformare le decisioni del potere questo è successo in tanti casi è successo per esempio nell'America del Sud quindi diciamo secondo me c'è ancora da sperare diciamo quindi la speranza che guidava Viganò su cui ha scritto queste parole bellissime che io ho citato è alla base dell'architettura del futuro e diciamo i giovani che iniziano adesso il loro impegno devono sapere ereditare questa speranza che non deve essere una speranza contemplativa ma una speranza attiva che si trasforma appunto in una volontà precisa di cambiare il mondo speriamo sì che questa speranza attivi anche tanti giovani che questo grido potente della terra serva a cambiarci senta poi invece dir che ci chiede questo tributo mi suggerisce una riflessione fra il ruolo di architetti di quel periodo come Viganò e Canella e quella che è stata l'evoluzione dell'altro periodo eroico del movimento moderno in Italia mi riferisco a quello di Terragni dei razionalisti comaschi un'architettura contemporaneamente spirito del suo tempo e preannuncio dei tempi che verranno alla qualità e allo studio dei dettagli che accomunano queste architetture le chiedo cortesemente un piccolo approfondimento sul rapporto fra questi due periodi distanti nel tempo eppure simili intanto c'è da dire che sono due periodi entrambi fioriti su questa terra lombarda e comunque su questa terra padana effettivamente diciamo la trasformazione dell'architettura è stata voluta in modo particolare da architetti che hanno vissuto a Milano a Torino molto meno da architetti del resto dell'Italia certamente la fioritura della scuola Comasca per esempio è un fenomeno locale che interpreta il fascismo come una rivoluzione e quindi in pieno equivoco diciamo realizza un'architettura rivoluzionaria che ovviamente ha poco a che fare con l'ideologia del fascismo ma ha molto a che fare con la interpretazione del fascismo che il Terranei dava fino alla terribile delusione di quando è tornato dalla guerra in Russia che era un personaggio irriconoscibile quindi personaggi che hanno pagato con la loro vita in un certo senso le illusioni che si erano fatte ma che comunque hanno avuto la soddisfazione di vedere la loro battaglia come una battaglia vincente ecco naturalmente tutto questo si è riproposto in modo molto vivace e intenso quando l'Italia è diventata una democrazia e lì effettivamente Milano ha dato un grandissimo esempio perché ci sono stati i maestri della prima generazione che hanno continuato dandoci dei capolavori straordinari Gardella Rogers il Peggio Ioso sono tanti gli architetti che hanno contribuito a creare un'architettura urbana di grandissime qualità e poi si è aggiunta invece la nuova generazione la quale non si è accontentata in un certo senso di una qualità ma ha voluto come dire una qualità che fosse anche indice di un rinnovamento profondo rinnovamento delle coscienze rinnovamento psicologico con questo senso per esempio l'opera di Canella insieme ad Achilli è stata molto importante Achilli era un deputato e Canella era un architetto hanno sempre lavorato insieme diciamo uno sull'impegno politico e l'altro su come tradurre l'impegno politico in una forma architettonica in una risoluzione di problemi della convivenza civile che l'architettura poteva dare e effettivamente l'architettura di Canella quanto quella di Viganò forse perfino di più meriterebbe di essere rivisitata proprio per questo straordinario rapporto con la politica cioè un'architettura che serve per dare voce alle comunità in un certo senso anche alle piccole comunità distinguendole dalla metropoli che è sempre diciamo più ha sempre più difficoltà dei piccoli centri ad assorbire le nuove idee diciamo che fare i conti con la storia dell'architettura in Italia vuol dire appunto riproporsi problemi che adesso sembrano sepolti ma che invece sono ancora vivi dramatici le periferie le diseguaglianze sociali questi sono i problemi da affrontare ora la periferia per esempio così com'è adesso è una struttura edilizia piena di sprechi che consuma troppa energia che quindi andrebbe ripensata proprio in funzione di una città nuova in cui ci sia meno spreco di energia e ci sia un migliore rapporto con la natura io credo che dopo la terribile esperienza del coronavirus la pianura padana debba sentire questo problema di allontanare più che possibile l'inquinamento che ovviamente rende più intenso e grave il pericolo che può venire da questi fenomeni appunto legati ai microorganismi che sono a volte più potenti dei potenti della terra certo invece cambiando argomento ci chiedono anche Vittoriano Vigano è stato anche un maestro nel campo delle architetture provvisorie e degli allestimenti pensiamo alla parata di luce in piazza Duomo alla voliera oltre molti allestimenti in triennale quale significato ha avuto per Vigano secondo lei questo campo provvisorio sperimentale del progetto ma a lui piaceva molto questo fatto si vede dalla felicità con cui è riuscito a realizzare questa torre che gli ho fatto vedere appunto è un capolavoro effimero ma è un capolavoro perché effettivamente lì si esprime questa possibilità di utilizzare i materiali che ci mette a disposizione della tecnologia in modo poetico cioè realizzando qualcosa che esiste solo attraverso la forma quindi con questo secondo me è un messaggio che Vigano ci ha sempre dato occuparsi anche delle piccole cose e le riflessioni che ho letto fanno capire che Vigano appressava molto l'esperienza fatta con le piccole cose quindi anche con le cose che durano poco perché diciamo servono appunto a stimolare la creatività servono a verificare la validità di certe ipotesi che nascono dall'uso dei nuovi materiali e anche dall'uso come dire della comunicazione perché noi viviamo in un periodo storico in cui la comunicazione è al centro delle attività dell'uomo e quindi qualunque studio sui mezzi con cui si possono comunicare agli altri dei contenuti o delle forme delle idee eccetera è uno studio che appartiene proprio all'aspetto più attuale della nostra civiltà e l'effimero indubbiamente ha questo valore perché è come dire una sperimentazione di modi di comunicazione nuovi non garantiti dalla continuità storica grazie stanno continuando ad arrivare tantissimi ringraziamenti applausi virtuali e complimenti per la sua lezione concluderei con un'ultima domanda da parte di Peraline Crozet che appunto la ringrazia dice grazie professor portoghesi per questo appassionato ritratto intellettuale di Viganò che ne ha dimostrato l'assoluta grandezza come architetto come pensatore come costruttore e si chiede come spiega che non abbia avuto finora un giusto riconoscimento a livello internazionale come sono stati invece riconosciuti architetti della sua generazione terodossi come lui come Hudson e Coderc ma purtroppo diciamo la cultura italiana ha contribuito perché il fondo li ingannò i marchiondi erano stati scoperti da Banham un architico inglese e inseriti dentro questa un po' forzosamente in questa categoria di brutalismo questo aveva portato Viganò a un momento di grande celebrità internazionale tanto è vero che fu scelto dal direttore di Architettura Giordi Bloch per costruire la sua casa sul lago quindi Architettura Giordi era la rivista più importante di architettura che esisteva allora nel mondo e Bloch l'aveva diretta pur essendo uno scultore con una grande apertura mentale facendone uno strumento di avanguardia ecco l'opera di Viganò era stata illustrata da Scelettura Giordini anche da moltissime riviste internazionali e quindi diciamo Viganò era pronto a diventare una star un archistara si direbbe oggi perché non lo è diventato perché ovviamente gli sono mancate le occasioni cioè avuto occasioni di dimensioni minori di interventi che non avevano quel respiro diciamo e quindi in un certo senso la sua fama è ancora legata principalmente a un'opera tra l'altro in condizioni pietose questo spiega ovviamente soltanto in piccola parte cioè spiega l'aspetto superficiale di questa dimensione negata almeno non tanto dalla storia quanto dalla cronaca naturalmente in questi casi conta moltissimo il lavoro dei critici il lavoro di chi organizza delle mostre di chi si preoccupa di far girare queste mostre io sono convinto per esempio che la mostra bellissima che è stata organizzata che in parte diciamo ha coinvolto anche l'autore sia uno strumento prezioso per diffondere la conoscenza delle opere di questo architetto e farlo diventare come giustamente è stato un protagonista riconosciuto e non un protagonista da riscoprire diciamo nel silenzio e nell'oscurità è evidente responsabilità nostra responsabilità di chi appunto ha quel minimo di potere caratteristico delle istituzioni che si occupano di architettura ecco io per esempio penso che la mostra sarebbe giusto trasferirla anche a Roma e penso che l'Accademia di San Luca sarebbe felicissima di patrocinare questa tra l'altro appunto se c'è un aspetto la fama di Viganò è di essere soprattutto una fama regionale è paradossale ma è così un architetto di grande elevatura che ha saputo costruire direi per il mondo pensando a una visione globale che però invece è da una serie di ragioni di circostanze pratiche condannato a una condizione di architetto locale di architetto fortemente legato a una civiltà architettonica regionale ecco questo è quindi un compito da rivendicare purtroppo oggi diciamo la decisione che riguardano chi è importante e chi non è importante vengono prese dal mondo anglosassone che ha sì dei grandi critici ma anche molti divulgatori i quali partono da coniezioni molto superficiali della realtà quindi diciamo che bisognerebbe combattere con gli strumenti che ci offre la comunicazione internazionale con iniziative che riescano a riequilibrare l'importanza dell'architettura moderna italiana nell'ambito della cultura internazionale senza ovviamente fare del nazionalismo che sarebbe fuori caro assolutamente fuori tempo ma diciamo rivendicando il rapporto dell'architettura con il luogo questo rapporto che è fondamentale in moltissimi capolavori dell'architettura di tutti i tempi che è un elemento da rivendicare cioè l'architettura deve sì essere internazionale globale quanto vi pare ma deve avere le sue radici e le radici ovviamente non possono che approfondire all'interno della terra e quindi localizzare l'architettura che non per questo perde la sua significato universale grazie 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 professore per il tuo generoso lucido emozionante e profondo contributo di questa sera la salutiamo perché non vogliamo rubarle altro tempo ormai ora di cena se appunto il professor Bosone e la professoressa Valente vogliono fare un ultimo saluto intervengo io volentieri con un veramente grandissimo ringraziamento al professor portoghesi perché ha veramente riempito diciamo queste ore ma anche questo nostro contenitore questa nostra università di una ricchezza di pensieri e di argomenti che spero siano veramente raggiunto abbiano raggiunto abbiano seminato veramente per tanti che hanno ascoltato e colgo l'occasione per dire che tra le nostre diciamo intenzioni desiderate era proprio quello anche di poter portare la mostra a Roma all'Academy San Luca dove già era stata rappresentata l'edizione del 1991 quindi ci farebbe molto piacere cogliere questa occasione come stiamo anche cercando di farla viaggiare anche all'estero e trovare così l'occasione per far conoscere la grande lavoro e il grande pensiero di Vittoriano Figano grazie mille veramente un applauso insieme a tanti che sono arrivati grazie a voi per l'occasione che mi avete dato di ricordare a un carissimo amico naturalmente rivolgo un pensiero particolarmente affettuoso alle figlie che proteggono la memoria di Vittoriano grazie e arrivederci grazie grazie professore mi associo ai ringraziamenti di Giampiero Bosoni e a quelli di tutti di tutte le persone che ci hanno seguito e ascoltato sono arrivati ringraziamenti saluti moltissimi commenti e anche altre domande che magari le faremo anche avere alcune molto molto interessanti penso che ci abbia veramente restituito una lezione sulla figura di Vittoriano Viganò stupefacente e anche la possibilità di approfondire per i nostri studenti un periodo della della vicenda architettonica italiana e non solo è anche di aprire ad alcune prospettive di lavoro che affondano nelle nostre radici quindi mi sento di ringraziarla da parte di tutti i docenti della scuola e da parte anche di tutti i nostri studenti sperando di avere l'occasione di vederci nelle aule di Vittoriano Viganò insieme in presenza come si dice adesso grazie grazie veramente a tutti anche a quelli che sono stati con il professor portoghese e con noi in questo bellissimo fine pomeriggio milanese grazie mille grazie mille